Grazie 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 Ah questa era dei domestici Molto simile a tutto ciò che avete da Sacromonte Voi siete qua due giorni? Sì Eh se si può fare Sì Allora secondo me Sant'Ambrogio Mangiata Allendo su non si parcheggia Si si parcheggia la bici buona Su si si arriva Si si arriva Allora la strada non è Un po' curva Però Non è così stressa Su il problema più che altro è il parcheggio Sì Sì Il sabato è un po' più Sì Ed è proprio qua sopra Perché qua c'è Bregazzana C'è proprio lì C'è proprio lì C'è una strada che è da Bregazzana Che è lì cilitero Allora